Ogni qualvolta si pensava di dare ai palestinesi la possibilità di sfruttare quei giacimenti, Israele interveniva ma non essendo riuscita in maniera definitiva con le precedenti operazioni militari, aveva bisogno di un casus belli, aveva bisogno di qualcosa di forte, aveva bisogno di qualcosa che le consentisse di avere mani libere per portare avanti i punti della propria agenda. Per capire se abbiamo visto il giusto, dato che siamo in conclusione, vedremo se dopo il 7 ottobre si arriverà alla militarizzazione della intera costa di Gaza con la confisca di quei giacimenti. La creazione di una zona cuscinetto darebbe ad Israele libero accesso per tribellare le riserve di gas e petrolio. Ovviamente se questi fossero gli scenari Israele avrebbe bisogno anche di un casus belli contro il Libano con il quale si è dovuta spartire con un accordo firmato proprio nel 2022 i confini marittimi per lo sfruttamento di importanti giacimenti in mare. Come dimostra questo grafico che vi mostro, che è un grafico dell'accordo di Israele con il Libano dell'ottobre 2022. Ora arriviamo anche alle motivazioni per cui gli Stati Uniti stanno coprendo l'operazione di Israele, in quanto quella operazione funzionale all'accordo di cooperazione energetica a lungo termine tra Stati Uniti e Israele, dove gli USA hanno previsto per Israele il ruolo di loro baluardo energetico nella regione medio orientale. Questo accordo infatti stabilisce che lo sviluppo delle risorse naturali da parte di Israele è nell'interesse strategico degli Stati Uniti. E' l'emergere di Israele come uno dei maggiori attori energetici in Medio Oriente e in linea con la necessità degli Stati Uniti di stringere la loro morsa nella regione, nello scontro con Russia e Cina.